Dopo 45 anni in terra bolognese, la EMI, editrice missionaria italiana, si è spostata nel veronese, in particolare a Villa Buri, in zona San Michele Extra. Una serie di contingenze pratiche, ma anche la scelta di venire in quella che è la capitale missionaria d'Italia, la città dei Comboniani, delle suore Comboniane, degli Stimattini, di molte realtà ONG dedicate all'azione del sud del mondo. La presenza del CUM e più in generale un tessuto sociale, religioso, pastorale, molto attento alla dimensione del sud del mondo, delle missioni e di un'apertura a un mondo che abbia la giustizia, la pace, la riconciliazione. Non dimentichiamo che a Verona c'è stata per tanti anni l'arena di pace e quindi è un terreno particolarmente fecondo per una casa editrice come la nostra. In che modo queste tematiche sociali legate al sud del mondo trovano un pubblico di lettori? In che modo cercate anche di rinnovarvi? Ma soprattutto lo stiamo facendo negli ultimi anni, facendo conoscere attraverso dei nostri libri alcuni personaggi davvero eccezionali del sud del mondo. Negli ultimi tempi abbiamo pubblicato storie di una suora come suor Rosmeri, personaggio dell'anno di Time, il cardinale di Manila Tagle che viene chiamato il Francesco d'Asia. A breve pubblicheremo una storia di un altro africano dell'anno, Gregoire Ogbononon, che si dedica ad aiutare, ad assistere migliaia e migliaia di malati mentali in Africa. Oppure padre Solalinde, candidato al premio Nobel per la pace e per il suo impegno con i migranti in Messico. Ecco, l'idea è quella di raccontare un sud del mondo che non è solo quello di fame, miserie e guerre, ma è quello di tantissime persone molto umili, molto normali, che però fanno dei gesti davvero eroici dentro una società che sta cambiando, che sta andando verso un maggior riconoscimento dei diritti umani. Forte di numerosi successi come la pubblicazione dei libri di Papa Francesco in tempi record, la casa editrice si prepara a progettare eventi, mostre e nuove pubblicazioni sul nostro territorio con un taglio di carattere nazionale e internazionale. Siamo presenti molto spesso anche in festival tra i più diversi, i nostri autori vengono ospitati a Festival di Mantua, a Pordenone, a Salone del Libro, Salone dell'Editoria Sociale di Roma, perché davvero la nostra fortuna anche in un tempo come quello della Chiesa di Papa Francesco è che le tematiche del sud del mondo, le tematiche missionarie, se presentate in una maniera non clericale, non bigotta, non chiusa, ma veramente come possibilità di raccontare il bene presente in vari contesti, trovano ascolto anche laddove non lo si preventiverebbe.